Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata ai Wüstel. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, Wüstel tagliata a fette, uova, scamorza, mozzarella, parmigiano grattugiato, sale, pepe, noce moscata e latte. Andiamo il via alla ricetta. Abbiamo posizionato la pasta brisè su uno stampo da 24 cm di diametro e l'abbiamo bucherellata con i rebbi di una forchetta. Mettere nel boccale le uova, il sale, il pepe, la noce moscata e il parmigiano grattugiato. Ed azionare il baby per 30 secondi. a velocità 4. Versare sulla pasta brisè. Mettere la scamorza. la mozzarella e i Wüstel. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. chiudere i bordi. Spennellare i bordi con il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. la torta salata è cotta. Lasciare intiepidire prima di servire. torta salata ai Wüstel. Grazie e alla prossima ricetta. la torta salata ai Wüstel.